Una novità in casa Movimento 5 Stelle, il sindaco indagato di Bagheria, tra l'altro anche per abuso di ufficio, lui dice giustizia d'orologeria, mettendosi un po' sulla falsa rega di quelli che sono i partiti contro la magistratura, hanno un po' di problemi con la legalità in questo momento? Io sono abituato a commentare le vicende giudiziarie che conosco, però voi adesso mi chiedete di commentare una frase, non il processo e quando l'ho letta l'ho trovata veramente inaccettabile perché sembrava esattamente le frasi di politici della prima e della seconda Repubblica che quando c'era un'inchiesta della magistratura dicevano esattamente quelle stesse frasi. Le ho sentite più volte dire da Berlusconi, da Bossi o anche da esponenti del Partito Democratico, insomma dei grandi partiti che il Movimento 5 Stelle dice di voler contrastare e di essere contro il sistema, quindi veramente non fanno onore a chi rappresenta un movimento che vuole cambiare. Tra l'altro ho visto anche un giovane sindaco, il che non vuol dire che non ci possono stare ingiustizie, errori e errori, lo sappiamo, non commento l'inchiesta perché non mi permetterei proprio e quindi ci possono essere pure tutte le ragioni di questo mondo del sindaco. Ma quel tipo di frase è esattamente in continuità con la politica che in gran parte ci ha rappresentato negli ultimi decenni e per fortuna adesso non solo quella politica ma c'è tanta buona politica dalle mani pulite che non solo non ha nulla a che vedere con i reati ma nemmeno con questo linguaggio della politica della prima e della seconda e in parte anche di questa Repubblica. Grazie.